La nuova situazione sociale, ambientale, economica e tecnologica, il cosiddetto new normal nel quale ci troviamo, ci impone una riflessione sui paradigmi di fondo che hanno guidato la didattica fino ad oggi. Al di là delle differenti visioni pedagogiche, qual è stato finora il paradigma dominante? È stato quello basato sul principio che una didattica ben fatta non possa prescindere dal qui e ora. Il resto è approfondimento, integrazione, a limite emergenza. Ma fin dagli anni 60, Kuhn, studioso dei meccanismi che determinano le rivoluzioni scientifiche, ci dice che i paradigmi possono essere sfidati. Più o meno negli stessi anni di Kuhn, Arthur Koestler con il suo The Act of Creation, in cui esplorava il tema della creatività nell'umorismo, nelle scienze e nelle arti, ci propone una riflessione interessante. Secondo lui, l'ideazione creativa è il risultato di una bissociazione, crea proprio questo neologismo, cioè dell'incrocio tra due matrici di pensiero autoconsistenti e del tutto scollegate, che improvvisamente, a causa di processi che possono essere inconsci o fortuiti, si incontrano. Kuhn, Larkonia, il termine bissociazione, proprio per sottolineare il fatto che non si tratta di un comune processo di associazione, ma di uno molto particolare, che mette in relazione due matrici di pensiero prima del tutto indipendenti. Nella routine del pensiero disciplinato, noi mettiamo in gioco solo una di queste matrici alla volta. L'emergere del pensiero creativo avviene invece proprio grazie all'incontro tra due matrici, che prima erano indipendenti e che poi originano una nuova matrice. Quando due matrici di riferimento si sono integrate in una nuova, diventa perfino difficile immaginare che in precedenza esistessero separatamente. La sintesi di questo processo, che abbiamo definito Hybrid Thinking, appare ingannevolmente evidente e non tradisce lo sforzo immaginativo necessario per mettere insieme le sue parti componenti. Hybrid Thinking significa creare e condividere un nuovo paradigma, in cui lo scardinamento della fede nel qui e ora trascina tutta una serie di conseguenze che sono ben lontane dall'esaurirsi nel semplice alternarsi tra qualche ora di didattica online e qualche ora di didattica in aula. Uscire dal paradigma del qui e ora vuol dire andare a demolire tutte le barriere che definiscono il qui e l'ora, ma non per sostituirle semplicemente con l'anytime, anywhere della matrice del pensiero online, ma con una nuova matrice di pensiero caratterizzata da un'ibridazione profonda dei processi di apprendimento in numerose diverse dimensioni. Non solo tra digitale e analogico, ma anche tra studio personale e lezioni, tra attività individuali e collaborative, tra attività didattiche ordinarie e di valutazione e perfino tra locale e globale. Ma come gestire questa complessità? Abbiamo bisogno di nuovi strumenti. A partire dal momento in cui ideiamo e progettiamo un'esperienza di insegnamento e apprendimento. Da qui nasce l'utilità di sviluppare un nuovo approccio alla progettazione didattica che proponiamo di definire Smart Learning Design. Utilizziamo l'espressione Smart Learning perché ci permette di superare la focalizzazione sulle distinzioni tra presenza online, fisico e digitale per concentrarci piuttosto sulla progettazione dell'esperienza didattica, vista come via attiva e partecipata verso il pieno raggiungimento dei risultati di apprendimento, ma anche aperta all'ideazione del mix, dell'ibrido più appropriato in base al contesto. Hybrid thinking, come dicevamo.